Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi consueto appuntamento con il videotag 30 mesi di libri. Se non sapete che cos'è questo videotag vi invito a leggere la descrizione. La domanda di questo mese è un libro in cui hai trovato un personaggio che ti rappresentasse? Io ho pensato tantissimo alla risposta perché di solito non riesco mai a trovare nei libri dei personaggi che mi rappresentino o dei personaggi nei quali io possa comunque identificarmi. Quindi è veramente stato difficilissimo. Poi ho scelto L'uomo che sussurrava ai cavalli di Nicholas Evans. Questo è un libro che a me è piaciuto molto e devo dire che è stato un caso particolare perché ho visto prima il film e poi ho letto il libro. Quindi insomma ho fatto un percorso un po' al contrario. Però ho scelto questo libro perché c'è un personaggio qui che ha delle caratteristiche che io in qualche modo mi riconosco un pochino. E mi sto riferendo alla mamma della bambina, ragazzina, che è la protagonista del libro. Io non mi ricordo i nomi, vi chiedo scusa perché è passato veramente un secolo da quando io ho letto questo libro, però la storia comunque brevemente è quello di una ragazza che cade da cavallo a un incidente. Questo incidente purtroppo le comporta la perdita di una gamba, della parte che va dal ginocchio in giù della gamba. Il suo cavallo è comunque rimasto traumatizzato, quindi quando la vede si agita, lei non riesce più ad avvicinarsi a questo cavallo, inoltre c'è la depressione per la perdita della gamba appunto e quindi insomma vive una situazione un po' particolare, un po' complicata. Quello che succede è che la mamma di questa bambina, che vuole aiutarla e vuole comunque risolvere un po' questa situazione, fa veramente di tutto, fa ricerche in internet, fa veramente una serie di cose impensabili e trova un uomo, che è quello l'uomo che sussurrava ai cavalli, che sembra in grado appunto di comunicare con questi animali e di ripristinare un po' quell'equilibrio che è andato perso. Ve la spiego proprio in due parole. E lei praticamente smuove mari e monti per arrivare da questa persona, quindi si fa un viaggio in macchina con il cavallo fino nel Montana, e quindi insomma fa una serie di cose di questo tipo per arrivare da lui e cercare di vedere se la situazione in qualche modo è risolvibile oppure no. Io ritrovo degli elementi che mi appartengono in questo personaggio perché lei aveva un problema, non riusciva a risolverlo in nessun modo e si è veramente dannata l'anima per trovare una soluzione. Poi ha preso partita, è andata fino nel Montana per cercare di parlare con questa persona e mi ricorda un po' me quando ho qualche problema o qualche cosa particolare che voglio risolvere a tutti i costi, perché anch'io comunque ci metto anima e cuore, quindi cerco, faccio ricerche, mi muovo, faccio tentativi, a volte mi butto anche un po' nel fuoco e spesso mi brucio anche, però insomma mi ricordava tantissimo questo aspetto del mio carattere, proprio la determinazione nel voler trovare la soluzione a qualche cosa, quindi diciamo che rispondo l'uomo che sussurrava ai cavalli per alcune caratteristiche del carattere che ha la mamma della ragazza che è protagonista del libro. Io direi che mi posso fermare qui perché non ho molto da aggiungere su questa risposta, vi invito come sempre a fare questo tag se amate i libri, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme!